ciao amici e benvenuti dal gemister quindi vi rubo soltanto un minuto perché mi preme ringraziare veramente tutti gli utenti attivisti ormai sono mesi che facciamo questo viaggio insieme grazie anche per i 7.000 iscritti ringrazio jason spesso lo ritrovate qui sotto con la sua analisi sintetica che condivido ringrazio max per il supporto ringrazio vincenzo ora non ricordo tutti noi perché iniziano ad essere tanti non a caso il v king è uno dei più venduti speaker potenti sul mercato per apporto qualità prezzo ma l'avete segnalato voi lo ritrovate sempre qui nella video recensione detto questo andiamo a fare questo confronto oggi che rimane nella stessa casa costruttrice tronsmart l'ho fatto perché queste spanchi però non mi avevano particolarmente convinto però avevano un prezzo accattivante allora sono arrivate loro allo stesso prezzo più o meno le spanchi bit nettamente migliorate ma chi integrano delle funzioni che ce l'andiamo a vedere nella nostra video recensione qui sotto vi ricordo sempre like iscrizione condivisione e se vi va di passare dai miei link amazon diciamoci la verità in mezzo a questa marea di auricolari bluetooth è veramente difficile sceglierne uno io ho voluto fare proprio questo confronto tra la stessa casa costruttrice perché il prezzo è molto simile meno simile invece la qualità dei materiali apprezzo di più così come il design quella delle spanchi bit perché è di tipo vago non pregiadissima la plastica ma sicuramente migliore di quella lucida che presentava qualche scricchiolio unica nota positiva a favore delle spanchi pro è l'apertura dello sportellino che aveva un comodo tasto a scatto sicuramente nell'utilizzo di giorni è una funzione più reattiva che ci permette di utilizzarlo con maggiore facilità così come sulle spanchi bit non gratisco questo laccettino che sinceramente in similpelle credo cuoio secondo me ruba più spazio che in realtà dare utilità buona invece in entrambe la calamita interna che le mantiene salde anche se si aprono accidentalmente trovesciamo il coperchino rimangono attaccate non hanno particolarmente questa soluzione soprattutto quella integrata dal lato smart non mi era piaciuto anche sulle spanchi pro perché non ha una logica più semplice ma quella logica fatta di secondi mi spiego meglio ci sono delle cuffie auricolari che permettono di fare varie operazioni in base a quanti clic andiamo a fare qui invece si deve fare a pressioni determinate in secondi è vero si può aprire il supporto vocale si può andare avanti però ad esempio io non riesco a tornare di una canzone indietro ma soltanto a far riniziare la canzone è invece geniale non capisco perché non la integrano in diverse case costruttrici il cavo sulla parte inferiore per ricaricare perché è davvero un plus che va sottolineato ed elogiato quello di avere una ricarica sempre a portata di mano anche se dimentichiamo il capo compreso in confezione perché lui eventualmente ha un ingresso type si tengo a specificarlo anche se il filo è esposto l'estrazione non è proprio semplicissima però comunque alla fine quello che conta che si può ricaricare anche tramite una power bank sono riuscito a ricaricarlo quasi quattro volte quindi una leggera maggiore autonomia proprio determinata dal case su queste spanchi bit così come gli auricolari il loro ritorno dalle tre ore alle quattro ore di autonomia poi molto dipende dalla riproduzione dal volume sonoro loro invece si attestavano sulle tre ore per quanto riguarda infine proprio la batteria gradisco ma c'era anche sulle spanchi pro i led di stato per farci capire quanta batteria residua c'è all'interno un'altra funzione che mi è piaciuta è quella che possiamo accendere e spegnere gli auricolari direttamente tenendo premuto per diversi secondi ambe due e si possono utilizzare uno indipendente dall'altro l'aggancio tra i due è molto veloce ma non era già stato sulle spanchi pro altro aspetto positivo ho visto in rete alcune review qualcuno secondo me ha fatto un po di confusione con la cancellazione del rumore perché lui non la attiva sulla sulla auricolare ma sul microfono per le chiamate ed effettivamente a una buona resa proprio con l'interlocutore nonostante ci siano anche dei rumori intorno a noi ha un'altonazione del 30 40 per altro punto forte che sono impermeabili ma che distinguono che secondo me fanno proprio pendere l'ago totalmente dalla bilancia anche se questa funzione non è essenziale è la ptx di qualcomm integrato che se il bluetooth 5.0 già da degli ottimi agganci e successivi riagganci davvero molto veloce nessun problema qui però mi ha dato qualche metro in più delle spanchi pro ma la ptx che in tanti me lo chiedono torna utile molto utile infine parliamo e così concludiamo ovvio che non vi posso fare un confronto sonoro purtroppo ci sono pur dei limiti tramite un video su youtube diciamo che le spanchi pro avevano al loro vantaggio un volume maggiore attenzione non sto dicendo che queste sono uno piano però mettendo al massimo del volume non ho avuto tranne rarissimi casi di ascolti ma l'esigenza di abbassare a me piace la musica ascoltarla dipende poi da quale genere ascoltarla a volumi elevati beh loro non mi hanno dato mai fastidio non c'è distorsione e questo potrebbe essere un vantaggio però non c'è quel volume esplosivo che si incontra in altri auricolari bluetooth poi a voi le conclusioni però ribadisco la quantità sonora c'è soltanto non è ho sentito cuffie che veramente poi non lo so quale vantaggio sia dovevo abbassarlo perché sfondavano i timbani comoda anche l'intossabilità non cadono a differenza di queste tro smart pro forse loro rimangono un filino più stabili perché avevano questo gambino che come ho detto nella video recensione che dava veramente una stabilità però lungo andare dava anche fastidio mancano leggermente degli alti o un po assottiato il gap con il mio equalizzatore integrato sullo smartphone buona la parte dei medi i bassi sono sempre un po carichi alla tron smart però sicuramente non hanno distorsione sono belli pieni c'è anche una certa percezione di profondità insomma avere il prezzo è inutile ribadisco stare a guardare però nell'uovo se non avete un budget altissimo sicuramente sono dei piccoli difettucci che possono passare infine parlo proprio del prezzo beh sono molto simili loro sono a 29 e 90 loro mi sembra che siano intorno a 20 56 euro beh penso che sia chiaro che anche pagando 3 euro in più sceglierai sicuramente le spanchi bit perché hanno un integrazione più integrazione anche a livello pratico che me le fanno preferire ma detto questo lascio a voi commenti qui sotto come sempre vi ringrazio di avermi seguito e spero di esservi stato utile così come vi ringrazio se passate dei miei link qui sotto sempre aggiornati al miglior prezzo grazie per il like grazie per l'iscrizione e soprattutto per la condivisione appunto perché in questa marea di speaker bluetooth che si trovano sul mercato le differenze sono talmente minime tra prezzo e prestazioni che fate sapere ai vostri amici alle vostre amiche che a 29 euro si portano uno speaker scusate un auricolare con delle funzioni quali la ptx che sicuramente a questo prezzo non lo trovate su nessun dispositivo qui vi lascio la pagella del prodotto e ringraziandovi ancora dj mister quindi vita appuntamento a presto